Un settore che con il coronavirus sta subendo gravi disagi è quello immobiliare. A Ladispoli e Cerveteri sono presenti oltre 80 agenzie della casa che una volta tornate in attività dovranno fare i conti con un forte ribasso del mercato. Il rischio serio è quello di trovarsi di fronte a un calo di vendite da pregiudicarne, un percorso che si era ristabilito dopo la forte crisi del mattone di dieci anni fa. A preoccuparsi non sono solo gli agenti delle vendite ma anche le imprese di costruzioni molte delle quali stanno subendo un contraccolpo in termini di fatturato e licenziamenti dei dipendenti. Le abitazioni in questo versante hanno tante richieste dai romani e ora potrebbero subire dei notevoli abbassamenti nelle vendite. E' vero sarà un'occasione per chi compra, al contempo sarà un disagio per gli addetti del settore. In ballo ci sono tanti posti di lavoro, dal muratore all'agente immobiliare, un settore quello legato alla casa che negli anni sia alla Dispoli sia a Cerveteri è stato una voce trainante dell'economia. E ora con l'arrivo dell'estate c'è il rebus degli affitti delle case estive. Se negheranno di partire lontano da casa vi sarà l'opportunità di ospitare molti villeggianti romani.